vuoi sapere come portare di nascosto i tuoi snack in piscina? allora guarda il nostro video ehi buon pomeriggio oh benvenuti nella nostra piscina dovresti buttare il gelato queste sono le mie bolle entra pure allora aspetta questo cos'è? è un frisbee hai visto? ok ho capito divertiti ce l'abbiamo fatta che buon profumo travestire la pizza da frisbee è stata un'idea geniale ciao il cibo non è permesso forse puoi fare una piccola eccezione per me? le regole sono regole oh bene il prossimo ehi ragazza non hai visto il cartello? niente biscotti in piscina mi sono rimasti solo due pezzi allora mangiali qui sembra impossibile introdurre cibo di nascosto in piscina oggi sto imparando a nuotare ok va bene puoi entrare non ho mai visto galleggianti come quelli prima d'ora il mio piano astuto ha funzionato ora posso gustarmi il mio panino bene a quanto pare basta ingegnarsi salve posso passare tu puoi ma non i tuoi biscotti cos'è questa non sembra proprio acqua la lascio qui ok grazie hai qualcosa da mangiare no solo la mia attrezzatura da sub va bene divertiti ha funzionato posso portare i miei snack ovunque sono così buoni speriamo che non se ne accorga ops è una palla sì lo è beh va bene entra che nascondi lì oh l'ipnosi è ancora un ottimo metodo farai passare me le mie caramelle sì benissimo ha funzionato ah cos'era devo aver preso troppo sole buon pomeriggio non è permesso mangiare o bere nella nostra piscina cosa non è giusto va tutto bene tesoro mangeremo più tardi è davvero una custodia per smartphone certo è fatta a mano interessante è stato più facile di quanto pensassi ebbene questa non è solo una custodia è un vero sogno per tutti i golosi non dimenticarti di iscriverti al nostro canale ciao posso aspetta e questo cos'è sono le mie salviettine umidificate capisco divertiti non così in fretta andiamo non è così facile ingannarmi vai evviva la mia idea ha funzionato cos'è? no non si può fare è delizioso ecco guarda ha del cibo ragazza è vietato portare del cibo qui che cibo? queste sono solo salviette ti sbagli ma l'ho vista mentre mangiava non è giusto sì ma è buono buon pomeriggio posso passare? aspetta non ti faccio entrare con il pane oh ma questo non è pane è la mia borsa sì è chiaro che non me ne intendo di moda e tu? queste sono la mia crema e la mia lozione per il corpo ok divertiti ce l'ho fatta ho una piccola sorpresa wow è ketchup fico lo so le mie idee sono sempre geniali cosa stai facendo? quella è maionese ops questo trucchetto ha funzionato anche troppo bene a volte per portare di nascosto il cibo basta un trucchetto tutto femminile chiama il medico questa ragazza è malata mi sento meglio grazie cosa? che strano ora non resta che mangiare i tuoi dolci senza essere visti perché non farlo sott'acqua? posso entrare? non così in fretta non è giusto e tu? hai dei dolci? no no solo un pallone aspetta non ti vergogni di mentire? wow dove vai? io lavoro qui sembra vero va bene entra grazie deve essere un duro lavoro ora posso fare uno spuntino restituirò la divisa più tardi sono un genio ciao niente caramelle ehi hai qualcosa di proibito? ragazzi non potete portare cibo ma e se ci viene fame? queste sono le regole sei cattivo non arrabbiarti tesoro ho una caramella wow mia sei la migliore non avrai mai fame con una ragazza così geniale ciao beh posso entrare? aspetta non è permesso bere oh mi dispiace è stato facile la mia distrazione ha funzionato ora posso godermi le mie delizie questo è puro piacere buon pomeriggio hai un cappello così bello e un'enorme quantità di dolciumi lì sotto bene bene lasciami tenere almeno una caramella no che cos'è lì? solo biscotti serviti pure grazie non è permesso mangiare oh sei così crudele mmm sento odore di formaggio deve provenire dal cappello vai dentro che strano che strano il mio trucchetto ha funzionato? le trecce al formaggio sono una grande idea ehi esci di lì e tu? dove pensi di andare? fammi vedere cosa hai in mano niente guarda me l'hai quasi fatta dammi i tuoi dolci così va meglio per ingannare una guardia intelligente bisogna essere più intelligenti aspetta cos'hai lì? kit di pronto soccorso ok va bene entra pure sto morendo di fame come si fa a nuotare a stomaco vuoto? hmm credo che tu abbia bisogno di aiuto ho bisogno di cibo tu non capisci le mie preziose pillole ti aiuteranno wow una scatola di delizie che mossa intelligente ecco serviti pure grazie buon pomeriggio devo controllare la sua borsa lo sapevo non puoi mangiare in piscina tira fuori la scorta sembra che il controllo oggi sia piuttosto severo ciao cos'è questo? io e i miei amici stiamo facendo una battaglia in acqua questa è la mia arma ok divertiti che grande vittoria e tu come fai a portare con te le tue prelibatezze? raccontacelo nei commenti sotto al video ti è piaciuto il video? se ti è piaciuto iscriviti al nostro canale e fai clic sul campanello a presto a presto a presto a presto a presto